Ciao e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio farvi vedere come realizzare questi splendidi coralli. Questi coralli sono realizzati in porre stilolo e poi successivamente dipinti con colla avilinica e tempera. Sono una splendida idea per decorare la nostra casa o per fare un piccolo pensiero a una persona a cui piace molto il mare. Ma ora vediamo cosa ci occorre. Ci servirà un pezzo di porre stilolo, io in questo caso ho questo blocco, che misura 11 cm per 15 cm ed è profondo all'incirca 7 cm Ora, cosa facciamo? Tracciamo il bordo del nostro corallo disegnando proprio la sagoma del corallo come ci piace di più lungo il nostro blocco Possiamo cercare delle immagini come guida o semplicemente farlo come ci piace di più andando un po' a sentimento Ora, a questo punto, io vi consiglio di tenere una scatola al di sotto e andare a rimuovere tutto l'eccesso di porre stilolo seguendo le linee guida tracciate in precedenza Vedete? Andiamo proprio a tirare via tutto quel porre stilolo che non ci occorre Il nostro obiettivo è cercare di tirar fuori dal porre stilolo il nostro corallo Continuiamo piano piano a scavare Ricordatevi, inoltre, che sarà fondamentale rimuovere tutta quella parte piatta sia nelle parti laterali che nella parte frontale e posteriore ricordandovi, però, che la base dovrà rimanere piatta per avere un appoggio più stabile Vedete? In questo modo Quindi E poi continuiamo a procedere via via a scavare tra i nostri rami del corallo Via via che farete dei coralli Avrete maggiore manualità in modo da tirar fuori sempre più dettagli Io per il primo vi consiglio, però, di seguire il più possibile le linee guida che avete tracciato in precedenza Ecco Ecco, questo è il risultato finito Questo sarà il nostro corallo Come vedete, è ricco di dettagli E già così, senza essere colorato già, già, molto l'idea di un corallo Vedete? A me piace davvero tanto Spero piaccia anche a voi Non ci resta altro da fare che vedere in caso che qualche pezzettino si sia rotto Come aggiustarlo Vedete? Questo è un altro corallo che ho realizzato È leggermente più grande rispetto all'altro Però mi serve per farvi vedere questo pezzettino che si è rotto Quindi ci occorrerà del fil di ferro O degli stuzzicadenti Semplicemente Dipende da quello che abbiamo in casa al momento Vi farò vedere il metodo con lo stuzzicadenti Quindi Nel punto in cui si è staccato il pezzo Andremo a mettere della vinavil Anche abbondante Inseriremo Il nostro stuzzicadenti Così E poi con l'estremità Dello stuzzicadenti che resta al di fuori Andremo a incastrare Il pezzo che si è rotto durante la lavorazione Anche se qualche pezzo Non si è rotto Ma il vostro corallo è grande O avete paura Possa rompersi Potrete inserire All'interno del corallo Un supporto Che lo renda un po' più rigido E quindi in questo caso Io metterò Dei pezzi di fil di ferro Che andremo semplicemente a tagliare E inserire All'interno Del nostro Poresilolo Io vi consiglio di prendere Un fil di ferro Rigido In modo che Non abbiate grosse difficoltà Nell'inserimento Una volta che avrete inserito Il fil di ferro Non vi resterà altro Da spingere per bene La punta Verso il basso In modo che Non resti al di fuori In questa maniera Io ne inserisco Io ne inserisco qualche altro pezzo Per sicurezza Ma non è un passaggio Indispensabile E se Vorrete essere più tranquilli Che non si rompa Se no Va bene anche se Non fate il passaggio Con il fil di ferro O gli stuzzicadenti Però In lavorazione Può capitare Che Qualche pezzo Ceda Inseriamo per bene La punta All'interno Ed è pronto Per la verniciatura Ci servirà Della colla Violinica E l'andrete A versare All'interno Di un contenitore In questa maniera E della tempera Io in questo caso Ho usato Della tempera rossa E ho mischiato Anche Delle varie tonalità Di arancione Però Voi potrete decidere Se fare Più rosso Rosso più scuro Potrete farli Del colore Che più vi piace Ricordatevi però Di non usare Vernici Che non siano A base Di acqua Perché Se usate Vernici Acriliche O smalti Rischierete Che Quasi sicuramente Dopo aver Verniciato Il vostro corallo Esso si sciolga Quindi Per i coralli E per colorare Il purestilolo Usate sempre Delle vernici A base di acqua Una volta che Abbiamo ottenuto Il colore Che più ci piace Andremo a posizionare Un foglio Di plastica Trasparente Per evitare Di sporcare Il nostro Tavolo E non andremo A fare altro Che Spalmare Il nostro Composto Di Vinavil E tempera Sopra Il nostro Corallo In questa maniera Avendo cura Di riempire Tutti Gli Spazi Di esso Potrete decidere Anche di fare Più stratti Di colore Più stratti Fare delle venature Particolari Questo sta A voi Io ho deciso Di dare Un colore Unico Grazie a tutti Potrete Inoltre Aiutarvi Nella Verniciatura Usando Un paio Di guanti Se avrete Fretta Di farlo Tutto Insieme Altrimenti Potrete Farlo In due Volte Quindi Fatte Prima La parte Anteriore Poi La parte Posteriore E Verrà Bene Comunque Il nostro corallo È asciutto Il risultato È questo Ciao Vi lascio Delle foto Grazie per avermi Seguita Grazie per avermi Grazie a tutti